e di questa che la chiesa è stata risonata dal terremoto tutte scritte non c'è scritto che ora calendario per la recita dell'ufficio divino ricordate tutti gli affreschi peccato che come ho detto c'è stato quel problema del terremoto del 2006 è stata lesionata e quindi da lì dopo è stata chiusa riso guardate che spettacolo sopra tutte scritte 2013 2013 2011 comunque piccoletta mamma molto particolare molto bella questa chiesa per ora da quello che ho capito non c'è ne non c'è manco ripristino per metterla a posto questo è un peccato è un vero peccato davvero bella è piccoletta ma molto particolare questa c'è tutte le robe di quella dell'acqua del vino quello che piava la prete niente questa era una chiesa abbastanza particolare una particolare scusate molto in tempo molto famosa però purtroppo dopo c'è stato il terremoto del 2016 l'anne resa inagibile dietro il coso niente che tutto qui e come dicevo prima dice tutti diocesi ricine tesi che sa cazzo è 1968 addirittura niente concludiamo qui con questo spettacolo e al prossimo video ciao 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 ciao